È stato eseguito dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino un decreto di sequestro preventivo per circa 500.000 euro nei confronti di un 62enne residente a Petriano che si sarebbe reso responsabile di fatti di peculato dopo aver sottratto ingenti somme di denaro dai conti correnti del fratello, sofferente di una grave patologia neurologica e del quale era stato nominato nel 2010 amministratore di sostegno. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Urbino ha predisposto il ritiro di beni nella disponibilità dell'indagato per un importo pari all'ammontare delle somme che questo avrebbe prelevato dai conti del fratello nell'arco dei sette anni in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore di sostegno, incarico che gli era stato poi revocato nell'ottobre del 2017. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Urbino hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari in uscita dai conti sui quali il 62enne era autorizzato e legittimato ad operare. Il fratello dell'indagato, deceduto nel marzo del 2018, era stato ospitato da più strutture residenziali di tipo assistenziale. Proprio nei confronti dell'RSA però risultavano accumulati importanti debiti a causa del mancato pagamento delle rette mensili. Questo dato, insieme alla situazione finanziaria denunciata dal nuovo amministratore, subentrato negli ultimi mesi di vita dell'uomo sottratto dei suoi redditi, dei quali facevano parte anche le entrate riconducibili alla pensione, hanno dato il via alle verifiche e alle ricerche che hanno portato ad identificare i movimenti e i prelevamenti effettuati dal fratello. La Procura della Repubblica ha provveduto quindi a formulare nei confronti del 62enne indagato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di peculato.